Musica Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, SuperTumi97, benvenuti ad una nuova puntata del vlog! Anzi no, non si chiamerà più vlog, perché giustamente come mi ha fatto notare un utente nello scorso vlog, mi ha scritto, eh ma questo non è un vlog al massimo, è un video aggiornamento, perché nei vlog si fa vedere la faccia, appunto, infatti una volta il vlog si chiamava video aggiornamento, però visto che il mio nome mi faceva schifo, video aggiornamento, l'ho cambiato in vlog e ho aggiunto le domande utenti, ma non è neanche corretto chiamarlo vlog, giustamente, e quindi questa rubrica si chiamerà to me tell. Ovvero, tu mi dici semplicemente puntini puntini e dirò appunto tutte le news per il canale con sempre al fondo le domande utenti immancabili. Allora, passando subito alle news del canale e delle rubriche, partendo subito con Pokémon Ruby Destiny. Allora, Pokémon Ruby Destiny, come potete vedere dai video, siamo quasi alla fine, come vedete caricherò più o meno due parti alla settimana, perché sto cercando di seguire una specie, diciamo, di regola, che faccio uscire. Ruby Destiny, Ruby Destiny, bianco bianco e cristallo cristallo. Se proprio non ce la faccio, come avete visto, faccio Ruby Destiny, Ruby Destiny, bianco, cristallo cristallo. Quindi, Ruby Destiny sono quasi alla fine, ovviamente fine senza contare le parti dei leggendari, perché ovviamente poi dovrò fare tutte le parti dei leggendari extra, ma quella è un'altra storia e comunque le farò. Quindi, proprio della storia principale, siamo quasi alla fine e sono molto contento. Per quanto riguarda Pokémon Cristallo, siamo a buon punto, diciamo, ma io ho già tante parti pronte, perché appunto Zumpafossi non può venire ogni volta da me, quindi quando viene registriamo tante parti e poi io le monto tranquillamente da solo. Quindi ho già 5-6 parti pronte, quindi adesso l'ultima è stata quella di Ebanopoli, del Drago, e quindi abbiamo già battuto la leghe, insomma, ma lo scoprirete poi. Ok, per quanto riguarda invece Pokémon Bianco 2, diciamo che queste parti ho l'improvviso, di solito uscirà il mercoledì, Pokémon Bianco 2, ve lo dico già, e di solito l'improvviso semplicemente perché non ho tutto sto tempo di girarle, e quando le faccio devo anche montarle perché, come vedete, in Pokémon Bianco 2 c'è la sidebar e non è proprio una cosa facilissima da fare, perché poi ogni volta che ne so, catturo un nuovo Pokémon, prendo una nuova medaglia, allora la sidebar è da cambiare, quindi devo aprire Photoshop, poi montare con Camtasia, insomma è un po' complicato, ma comunque ce la faccio. Quindi Bianco 2 continuerà, sono più o meno, credo, a metà del gioco perché ho preso quattro medaglie, ma so che il gioco è molto lungo, quindi credo di essere a meno di metà, perché c'è molta altra roba da fare, più ovviamente tutte le parti extra, ma state tranquilli che le farò. Per quanto riguarda i giochi da paura, questa è la news più importante perché tra poco finirà la seconda stagione, cosa vuol dire? Che io i giochi da paura non li posso fare continuati all'infinito, come avete visto già nella prima stagione, li ho fatti durare due mesi e poi basta, stavolta è durato un po' di più, è durato da settembre a dicembre, quindi 3-4 mesi più o meno all'incirca, ho fatto più giochi come avete visto, anche fatti meglio, girati meglio, quindi vi anticipo già, nella prossima puntata del prossimo sabato ci sarà The Rake 2, perché come vi ho detto nel video precedente a questo, The Rake mi è piaciuto tantissimo, quindi sicuramente farò il 2 e chissà, magari poi quando riprenderò il prossimo anno la rubrica dei giochi da paura, magari ci sarà The Rake 3, non si sa, comunque The Rake 2 non sarà l'ultima puntata, ma ce ne sarà ancora una, che sarà poi veramente l'ultima, e quella sarà davvero interessante, mi sto tenendo un gioco, chiamiamolo la bomba finale, per finire questa seconda stagione di giochi da paura, che appunto finirà intorno a metà dicembre giochi da paura, e poi la riprenderò a febbraio, marzo del 2013, insomma non temete, è finita solo la seconda stagione, inoltre vi consiglio che, ho fatto il bannerone sopra, ho cambiato la mappa del bannerone, e come vedete c'è scritto giochi da paura, se cliccate lì andate al canale delle stagioni di giochi da paura, quindi praticamente voi da lì potete accedere facilmente a tutti i video, tutte le playlist di giochi da paura, questa è una funzione partner che è molto utile, secondo me che appunto ti crea questi show, e non le ho create per tutte le rubriche, perché mi sembra un po' stupido crearle per le guide, perché le guide poi a un certo punto finiscono, mentre giochi da paura è davvero uno show, perché esce ogni sabato, insomma ha una sua cadenza settimanale, e quindi mi sembrava giusto fare uno show, quindi andate ad iscrivervi anche al canale dei giochi da paura, che ho creato, se vi va, se no li potete trovare tutti molto facilmente. Perfetto, ora vi starete chiedendo, visto che io sono un let's player Nintendo, ieri, l'altro ieri, è uscito il Wii U, il 30 novembre, e già uno nelle domande mi ha chiesto se l'ho comprato, a questa domanda risponderò appunto nelle domande utenti, ma quindi non vi anticipo nulla, tra diciamo un minuto di questo video vedrete cosa ne penso sul Wii U e se l'ho preso o no, ma non ve lo dico ancora. Per quanto riguarda invece una scheda di acquisizione, allora, molto tempo fa, cioè molto, qualche mese fa, e avevo detto, ma comprerò una scheda di acquisizione io, però l'avevo presa in realtà, era una Magix Video, una roba strana comunque, che comunque era una normalissima scheda di acquisizione, quei cavi component da attaccare al PC, così, semplicemente non funzionava, faceva schifo, gliel'ho ridata dentro all'Uni Euro, perché loro mi hanno detto, va sulla Wii, l'ho provata, non andava, e quindi gliel'ho ridata, e quindi questo Natale mi comprerò una scheda di acquisizione seria, che come credo che sappiate tutti è la Vermedia Game Capture HD, scheda di acquisizione ambita da tutti i gamer, insomma la migliore di tutti, possiamo dire semplicemente, e quindi la prenderò perché mi servirà per fare il gameplay del Wii, ma non solo, perché questa scheda ovviamente si aggiorna, e potrò fare il gameplay anche del Wii U, quando lo prenderò, sì, adesso vi ho già anticipato che non l'ho ancora preso, ma lo prenderò a breve. Ok, ora come ultima cosa vi voglio ringraziare tutti, perché siete 369, per me è un numero incredibile, contare solo che un mese e mezzo fa eravate 100 in meno, quindi siete aumentati di 100 in pochissimo tempo, davvero, vi ringrazio a tutti, siete davvero incredibili, e spero appunto di arrivare a breve ai 400, perché insomma sono davvero dei grandi traguardi per uno che era partito così senza grandi ambizioni. Perfetto, ma ora passiamo alla vostra parte preferita, ovvero le domande utenti. La prima domanda mi arriva da Miku Unboxing, ed è quella appunto che vi avevo anticipato prima, e mi chiede, ehi tu mi la prendi al lancio la Wii U o aspetti? Allora qui sul Wii U ho qualcosa da dire. Allora, io, diciamo, l'unico gioco che mi attirava davvero al lancio del Wii U era Zombie U. Perché? Perché è un gioco innovativo, non si è mai visto niente del genere prima, né su console Nintendo, ma neanche su altre console, c'è un survival horror vero e proprio, quindi mi attirava parecchio Zombie U. Però al lancio costava 360 euro, ma non è solo quello, cioè se fosse stato solo quello magari l'avrei presa comunque, avrei rinunciato a qualcos'altro, ma l'avrei presa. Ma non è solo quello appunto, perché come giochi validi che mi attirava c'era quello, c'era il nuovo New Super Mario Bros, oddio, ma ne ho giocati tantissimi, cioè mi sembrava troppo uguale a quelli vecchi. C'era Nintendo Land, che però era in bundle, quindi dovevo scegliere se prendere la versione Zombie U in bundle, oppure quella di Nintendo Land, ma preferivo quella Zombie U. e quindi alla fine aspetterò, ma non tanto tranquilli, quindi la Wii U non l'ho ancora presa, come avete capito, ma aspetterò solo fino a marzo. La prenderò, credo, in bundle con Zombie U, ma con un altro gioco, che a marzo, il 13 marzo, esce un gioco per Wii U, che a me vale da solo il Wii U. E' un gioco che era già uscito, c'era il suo capitolo precedente, era su Wii, e a me è piaciuto davvero tantissimo, quindi appena mi hanno mai, mi hanno visto che mi hanno piazzato a marzo 2013, quel gioco lì, ragazzi, non potevo fare altri, non posso fare altri mesi che comprarlo a marzo 2013. Quindi dovete aspettare solo 3-4 mesi, e poi state tranquilli, la Wii U la prenderò, e come vi ho detto prima, col GameCapsule HD, quindi basterà aggiornarlo, e poi potrò registrare anche col Wii U. Quindi aspettatevi un gameplay in anteprima del gioco di cui sto parlando. Non vi rivelo che cos'è, provate a sparare voi, a indovinare, che gioco sarà mai il gioco che aspetta Tumi, e che esce il 13 marzo 2013 per Wii U. Non lo so, io lo so, però dovete indovinarlo voi, scrivetelo nei commenti, un piccolo quizzettone. Ok, la seconda domanda ci arriva da Italesplayer. Bravo, ma come mai nel layout non hai messo la medaglia che hai guadagnato? riferito al video di Pokémon Bianco 2, l'ultimo, quello con Camelia. Semplicemente perché io lascio la sidebar unica per tutto il video. Si potrebbe ovviamente cambiare a metà video, però lo trovo troppo complicato, soprattutto scomodo, perché ci metterei tanto a sincronizzare i tempi, e sinceramente preferisco, quindi, ragazzi, se io catturo un Pokémon, se ottengo una medaglia, che ne so, nella parte 9, la vedrete nella sidebar della parte 10, perché poi dovrò cambiare la sidebar con Photoshop, quindi insomma è un po' un lavoro abbastanza difficile, quindi la troverete nella parte dopo. Ma non è scontato che magari quando avrò più tempo potrei fare il cambio della sidebar anche direttamente dentro al video. Comunque questo è tutto da vedere. L'ultima e terza domanda ci arriva dal mio Dottor D. Bello il nuovo sfondo. Chi l'ha fatto? Sì, bello il nuovo sfondo sarebbe. Chi l'ha fatto? Allora, il nuovo sfondo, quello che vedete appunto, che non vi ho detto che è cambiato, ma l'avete visto tutti, cioè basta guardare il mio canale, me l'ha fatto Sancio97, mio amico e collaboratore, ricordo, che appunto l'ha fatto un po' su richiesta mia, cioè io gli ho detto cosa mettere, come sfondo, preferivo l'azzurro, mette cosa che Pokémon mettere, insomma anche i simboli del banner, e mi piace parecchio, sinceramente come sfondo, è davvero bello, quindi ringrazio Sancio97 per avermi fatto questo sfondo, ho finalmente capito come fare la mappa immagine, ragazzi, perché io non sapevo fare la mappa immagine, rendetevi conto, un partner che non sa fare la mappa immagine, cioè la sapevo fare ma mi veniva male, quindi non, poi ho capito come fare comunque, quindi benissimo, ringrazio Sancio97 per lo sfondo, che mi piace davvero tanto, con Arcanine sui, che secondo me sono spettacolari là di fianco, che appunto ogni cosa rappresentata, rappresenta diciamo uno dei let's play che ho fatto io, ok ragazzi, quindi per questo To Me Tell è tutto, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, e io vi saluto, ciao a tutti ragazzi!